La seconda edizione della guida alla fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese. La guida è disponibile in italiano e in inglese in tedesco e includerà possibilmente per l'Italia anche il secondo decreto attuativo e tutte le informazioni. È una sorta di vademecum che analizza tutti gli aspetti della fatturazione elettronica in maniera molto molto pratica in un linguaggio molto semplice che permette all'azienda di capire davvero quali sono i benefici e quali sono le domande che l'azienda deve porsi per poter iniziare un progetto di fatturazione elettronica step by step. Quindi c'è anche una to-do list di tutte le cose che bisogna fare, che bisogna sapere per decidere a livello aziendale se si può partire o meno e quello che c'è da fare prima di partire. Quindi è un valido strumento pratico, verrà distribuito sia online e speriamo con il supporto del governo anche in tutti i punti dello sportello unico che sono oltre 100 sparsi in Italia. Quindi il CB è anche sponsor europeo della guida e da sempre ci supporta in tutte le attività di awareness e comunicazione. Grazie Grazie